Ciao a tutti, in questo pomeriggio il Milan ha ripreso ad allenarsi al centro sportivo di Milanello ripresa comunque importante dopo il brutto pareggio di Lecce dopo le brutte sensazioni della trasferta pugliese il Milan ha ripreso ad allenarsi e ora deve preparare senza i giocatori partiti per le varie nazionali senza gli infortunati deve preparare però il rientro in campo contro la Fiorentina dopo la sosta ma cosa ha detto l'allenamento di oggi? la bella notizia che vi possiamo dare è che per la prima volta Ismail Benasser ha svolto il Torello insieme al resto della squadra è un passo avanti per Benasser, ne parlavamo proprio nel video di questa mattina lui ha messo un po' come obiettivo il ritorno in campo a metà dicembre metà fine dicembre, diciamo così, manca più o meno un mese, un mese e qualcosa per il ritorno in campo di Benasser e oggi per la prima volta, e questa è la bella notizia, ha svolto il riscaldamento insieme a tutta la squadra ovviamente quelli che c'erano a Milanello, non tutti c'erano a Milanello per poi successivamente invece svolgere allenamento personalizzato allenamento personalizzato anche per Kier, Calabria, Loftucic, Pulisic giocatori quindi che devono recuperare dopo i recenti infortuni, i recenti problemi fisici quindi nella schiera, nel gruppo dei giocatori che hanno fatto personalizzato ci sono questi che ho appena elencato guardando uno dei vostri messaggi e tra l'altro vi ringrazio perché comunque ne mettete sempre tanti scrivete tanti commenti e molte volte valgono anche come spunto per me per fare un contenuto, per fare un video e davvero vi ringrazio tanto così come ringrazio tutti quelli che quotidianamente mettono like, attivano la campanella e si iscrivono al canale qualcuno ha sottolineato una statistica su Radekrunic allora io la ribadisco è una statistica che fa riflettere poi sta a voi decidere se può essere una coincidenza non è una coincidenza ma è possibile che nelle sei partite giocate dal Milan dopo il rientro di Krunic in gruppo, dopo l'infortunio quindi parliamo della partita tra la sosta di ottobre e questa sosta, quella di novembre in questo mese, anzi anche meno di un mese in cui si sono giocate sei partite di cui due di Champions e quattro di campionato in queste partite il Milan non ha mai vinto con Krunic in campo l'unica partita vinta dal Milan è stata contro il Paris Saint-Germain dove in campo non c'era Krunic ribadisco, io non voglio buttare la croce addosso a questo giocatore per carità, non è che il Milan perde per colpa sua però è una statistica che fa riflettere secondo me è giusto prenderla in considerazione anche l'allenatore cavolo il Milan perde con la Juve e Krunic in campo perde con l'Udinese, Krunic in campo pareggia col Napoli e pareggia con il Lecce c'è Krunic in campo perde col Paris Saint-Germain a Parigi 3-0 e vince quando lui non gioca non lo so, è uno spunto di riflessione scatenatevi anche voi nei commenti magari c'è chi dice ora non è che possiamo giustamente prenderci solo con il singolo perché si gioca in undici e tutti hanno la propria porzione di responsabilità compreso l'allenatore che fa la formazione e tutto però è curioso questo dato statistico è davvero curioso Milan è che da quello che abbiamo capito nel mercato di gennaio si rinforzerà nel mercato di gennaio andrà a prendere dei giocatori al di là della questione Krunic dove il Fenerbahce potrebbe chiedere nuovamente il giocatore al Milan e magari a questa volta potrebbe anche riuscirci nell'acquisto il Milan vuole prendere almeno un difensore e un attaccante quindi diciamo che si parte con la media di un paio di acquisti per il mese di gennaio ha capito il Milan di aver probabilmente sbagliato nell'acquisizione di Jovic giocatore ex Fiorentina dove tra l'altro potrebbe proprio giocare contro la sua ex squadra la squadra viola di Vincenzo Italiano alla ripresa del campionato lo vedremo e il nome che in questo momento ci sentiamo di dire che è un po' più avanti anche nelle convinzioni della squadra nelle convinzioni della dirigenza e di coloro che fanno il mercato è Adams del Montpellier giocatore che a gennaio compie 24 anni forte fisicamente robusto, veloce classico giocatore che la mette sul piano fisico sul piano atletico che in Serie A può dare fastidio alle difese avversarie quando sono chiuse quando sono impermeabili giocatore che secondo me può essere acquistato anche a cifre non troppo elevate pensate che era stato acquisito dal Montpellier in estate per circa 4 milioni e mezzo da un club norvegese e dopo 11 partite in cui ha segnato 7 gol Adams può essere magari rivenduto a 10 milioni 8-10 milioni magari il doppio rispetto alla cifra che ha investito il Montpellier in estate oppure insomma qualcosina in più ma si può trattare però ecco il fatto che il Milan voglia andare su questo tipo di giocatore fa capire anche come evolve l'idea del Milan nel rinforzare il reparto offensivo non si vuole andare a prendere magari il giocatore più gracilino ma bravo tecnicamente ma lo si vuole migliorare dal punto di vista atletico e fisico andando a prendere un giocatore che la mette sotto il piano atletico come Adams che comunque è ancora molto giovane 24 anni ha ancora da compiere e può essere un ragazzo interessante c'è anche Guirassi dello Stoccarda però qui ecco per quanto riguarda quest'attaccante c'è il famoso e classico dilemma può essere un nuovo Piontek cioè segna tanto ma comunque fino ad ora non aveva mai segnato lui ha quasi 28 anni fino ad ora non ha mai segnato e questa è la prima stagione in cui sta facendo un sacco di gol c'è da chiedersi ha fatto il salto di qualità ha fatto quello step che serviva per diventare un grande attaccante o è il famoso periodo positivo che capita nelle carriere di qualsiasi punta vi ricordate Piontek e lui non aveva mai segnato tantissimo poi al Genova segna molto il Milan spende tanto lo prende dal Genova e poi dopo una fase iniziale è andato poi anche lui incalando quindi c'è da chiedersi se l'attaccante dello Stoccarda può essere l'uomo giusto non è più giovanissimo è 28 anni rispetto a Adams che ne ha neanche 24 e poi ci sono dei nomi che stiamo cominciando a depennare per quanto riguarda la difesa Dragusini del Genova piace ci sono stati incontri sia con il Genova che col suo procuratore ma il Genova chiede troppi soldi 20-25 milioni di euro l'idea del Genova è vendere Dragusini in Premier League in estate quindi diciamo che da questo punto di vista ci sembra un nome un po' lontano attenzione a Kelly del Bormut Kelly va in scadenza di contratto al 30 giugno il Miana vorrebbe anticipare l'operazione a gennaio ma il club inglese potrebbe rifiutare qualsiasi tipo di offerta ricevuta perché vuole tenere il giocatore ancora fino alla scadenza quindi sostanzialmente diciamo che è una una scelta che porta il Miana verso diciamo il Miana potrebbe andare su altri giocatori poi Van Bremen anche lui al momento non ci sembra un nome molto caldo quindi vanno un attimo vanno un attimo fatta la distinzione tra giocatori che veramente piacciono ed altri che sono solamente osservati chiudiamo col dire che oggi nell'allenamento di Milanello c'è il buon Ismael Benasser che anche lui si sta allenando con la squadra e che ha fatto allenamento di Torello con il gruppo comunque una notizia positiva di Torello